Andrea Sivilla, dispetto del risultato, ampio risultato, largo risultato del 4-0 sul Marino, il primo tempo non vi siete espressi forse al meglio? Almeno questo è quello che dice Corrado Urbano. Tu come la pensi? Anche io la penso allo stesso modo perché sappiamo fare meglio, ci siamo espressi molto meglio del primo tempo di oggi, sia domenica scorsa che alla giornata d'esordio ed è giusto come dice il mister, dobbiamo entrare in campo con un altro piglio, con un'altra mentalità anche perché quest'anno andremo a affrontare un campionato davvero equilibrato e molto difficile. Questi altri tre punti messi in cassaforte che vi fanno navegare in vetta alla classifica sicuramente fanno morale e vi spingono a lavorare ancora di più? Sì, fanno morale, permettimi di dire che ci faranno lavorare con più serenità. Io penso che il nostro obiettivo primario sia la salvezza, benvenga questo inizio di campionato perché stiamo facendo bene e non ci possiamo nascondere, però voglio ricordare che il nostro obiettivo primario è la salvezza, quindi raggiungere il prima possibile la quota salvezza e poi chissà potremo toglierci qualche soddisfazione in più. E intanto domenica prossima c'è da andare a Termoli? Ma sicuramente sarà un'altra partita tosta come quelle che abbiamo affrontato già nelle prime tre giornate. Io penso che il Termoli assieme a un'altra due o tre squadre del girone sia una delle più forti. Secondo me può giocarsi la vettoria del campionato fino in fondo e sarà molto difficile.